Benvenuti al video giornale di prima pagina, come ogni lunedì dedicato ai fatti della settimana. Una settimana purtroppo piena di tragici fatti di cronaca che si è aperta con la scomparsa di un imprenditore agricolo di 36 anni, Alex Balboni, padre di due figli che stava lavorando nella sua azienda agricola in via Bottegone, a Camposanto, travolto dal mezzo agricolo sul quale stava lavorando. Nulla da fare nemmeno per Carlo Orini, un 74 anni di Levizzano Rangoni schiacciato dal suo trattore mentre lavorava nei campi. A seguito di un incidente, questa volta sulla strada, non ce l'ha fatto un altro giovane papà, Biagio Tamborroni, di 40 anni. L'uomo viaggiava sulla sua moto quando si è scontrato con un'auto in manovra in strada San Cataldo a Modena. A Palagano il corpo di Angelo Mandrioli è stato invece ritrovato nel lago. L'uomo era scomparso da alcune ore e non aveva più fatto ritorno a casa. Ieri sera la sottosezione di Modena Nord ha tratto in arresto due cittadini stranieri, cittadinanza marocchina, con un grosso quantitativo di stupefacenti, Ashish. 30 kg sono stati recuperati da un controllo casuale, diciamo, di iniziativa della pattuglia che ci ha visto bene, nel senso che al momento dell'apertura della macchina si è notato subito un odore sospetto, si è stesa la perquisizione al veicolo e nel baulo sono stati ritrovati diversi panetti di sostanza stupefacente, ora sequestrati. I due soggetti sono stati posti a disposizione dell'autorità giudiziaria e portati in carcere. Ma a scuotere le coscienze, in settimana è un altro efferato omicidio nei confronti di una donna. In una cantina, in un condominio in via nazionale per Carpi, viene ritrovato all'interno di un frigorifero spento il corpo di Benedetta Fella, 50 anni, che si scoprirà subito dopo essere stata strangolata, uccisa e nascosta nell'elettrodomestico dall'ex convivente, già denunciato in passato per episodi di violenza, un elemento che ha riacceso il dibattito sul femminicidio, ma anche sul ruolo e sull'efficacia degli interventi di prevenzione sul fenomeno. La cronaca della settimana ha purtroppo registrato anche la morte di una bimba di 7 anni che il 26 giugno scorso si era sentita male in piscina a Campogaliano mentre giocava, era sprofondata nell'acqua, bagnini e soccorritori, accortisi del fatto avevano provato a rianimare la piccola, deceduta però dopo 5 giorni di agonia al Policlinico di Modena. Nell'attentato firmato dall'ISIS ad H in Bangladesh perdono la vita 20 persone, 9 di queste sono italiane, tra di loro clienti del locale in cui i terroristi hanno fatto irruzione c'è Claudia D'Antona, moglie di Giangaleazzo Boschetti, imprenditore nel settore edile di origine carpigiana in Bangladesh da 25 anni. Al momento dell'irruzione lui si trovava nel giardino del locale, nascondendosi dietro un cespuglio e riuscita a scampare al massacro terrorista nel quale purtroppo è rimasta vittima la moglie. Per lo sport è stata una settimana cruciale con la scadenza del 30 giugno che ha visto, nonostante il flop del crowdfunding proposto dalla società, fermo al 9% dell'obiettivo da un milione di euro, l'iscrizione del Modena Volle al prossimo campionato di Superlega. Ma il 30 giugno è stata anche la scadenza per l'iscrizione al campionato di Lega Pro da parte del Modena Calcio, obiettivo raggiunto da parte di Antonio Caliendo che pochi giorni prima aveva ricevuto il no dal nuovo potenziale DS Guglielmo Acri e dall'ormai ex allenatore Cristiano Bergodi. La direzione sportiva sarà guidata invece dal 51enne Luigi Pavarese che dovrà essere presentato in settimane insieme al nuovo responsabile della comunicazione Paolo Francia, mentre per l'allenatore è ancora tutto in alto mare. Altra storia davvero per il Sassuolo, oltre a Stefano Sensi e Mazzitelli è stato protagonista del workshop sulla presentazione della campagna abbonamenti e della festa in piazza a Sassuolo alla presenza del Patron Squinzi che dal convegno organizzato presso la sede di Confindustria Ceramica ha lanciato il prossimo anno l'obiettivo Champions. Sicuramente sì, l'anno scorso abbiamo raggiunto, forse stagione, non l'anno scorso, quest'anno abbiamo raggiunto dei risultati straordinari Qual è il risultato? L'Europa? L'Europa e adesso dobbiamo dimostrare di essermi all'attento Io ho molta fiducia, mi ricordo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno dato il loro contributo a partire evidentemente dai giocatori ma anche tutta la struttura societaria che chi li ha sostenuti, parteggiata da Giovanni Carnevali e anche tutti gli sponsor che hanno sostenuto il Sassuolo e in questi anni abbiamo degli sponsor portafederi che ci seguono costantemente e quindi questo si fa molto piacere Per la Formula 1 il Gran Premio di Austria regala ancora una delusione per la Ferrari All'ultimo giro vince Lewis Hamilton che trionfa dopo un sorpasso sciocche su Nico Rosberg e riapre così il Mondiale Per la casa di Maranello invece la vittoria sfuma ancora una volta anche se acciuffa un altro podio in extremis, Kimi Raikkonen ma è giallo sulla gomma di Sebastian Vettel esplosa al 27esimo giro che obbliga il tedesco al ritiro Ed è tutto per l'edizione del lunedì del video giornale di prima pagina con i fatti principali della settimana che potete rivedere sulla pagina Facebook o sul nostro sito web www.lanuovaprimapagina.it Dalla redazione è tutto, l'augurio di una buona settimana